Ehi, salve a tutti Wachikibari e bentornati su Yoshi's Crafted World Perfetto, oggi è arrivato il momento di finire una volta per tutte sfida a tanta talpa volontà Perché devo acciuffare i pucci cuccioli Andiamo E speriamo bene, perché sinceramente non ne ho idea raga, veramente non ne ho idea, abbiamo un po' In realtà questo livello non mi piace parecchio, ma... Bene, allora Qua ci sono delle carote bellissime Avremo già il primo uovo Adesso non c'è la roba dei punteggi, per fortuna direi Ok, lì vedo che c'è il primo pucci Aspetta Aspetta, aspetta No, no, pucci Via talpe dal malagurio Pucci No Il pucci Preso Ok, ce l'ho fatta raga, ce l'ho fatta Eh boh, non li vedo Ok, ok, eccolo No, dai tanta talpa Ti odio male Ok, preso Dai che siamo a un buon punto almeno Perfetto Ecco qua Ok, qua c'è la roba dei cuori Se mi ricordo questo pezzo Mi sa che cosa ho per forza andare di sotto Aiuto, aiuto, aiuto Mamma mia E' più complicato così Ok, perfetto Ok, vai Oh no No, è il mio costume Dov'è che è? Eccoti Ti ho visto Ora tu vieni a casa con me Ti prego Ah, la roba del tempo Mannaggia E non lo so se Se bisognava completarlo in 3 minuti e 30 Sapete Non ho controllato E beh, l'antà non credo Sì, però adesso finiamo per favore Eh, che cavolo Dai forte Adesso abbiamo finito Ah, è finito, è finito, è finito Niente Allora Ah, ecco, ok Molto bene Ce l'abbiamo fatta Finito Tutto quanto al 100% Alleluia Madonna Bene, gente E adesso Andiamo A spacca petrosauri Ah, giusto Le monete rosse Va bene Andiamo Però non ci serve Ok, adesso Qui Attenzione Occhio Finito Tutte Le monete rosse Eccoci qua Ho completato questo livello E poi ovviamente Vado a fare La parte dei pucci cuccioli Quindi Sì E finiamo Boom yeah Bene Adesso andiamo avanti Ah, guarda Ci sono ancora i tipi timidi Che fanno le capriole maledette Ehi tu, pianta Vattene via Ok Va bene Bam Colpita Bellissimi I comitoli Aspetta Qua c'è forse qualcosa Non sembra Beh c'è il monino Niente qua No Mi sa di no Andiamo avanti Aspetta Aspetta Che è un trampolino Aia No Sto per morire Che cacchio è sta roba Oh Ma anche no eh Ma anche no Aspetta Aspetta Beh a parte che qua c'è qualcosa Non c'è niente Ok Ho visto che qua c'era tipo Un oggetto Ok Qua c'è la nuvoletta Ok un po' di cuori Perfetto Aspetta Aspetta Ti ho visto Dammi la moneta rossa Benissimo Aspetta No Le mie monete E tu chi sei Chi sei Odioso essere Eccoti qua Ok mi sa che Spalmava queste monete Forse Eh no Qua non ci Boh Vabbè andiamo avanti Ma che non ci sia niente qua Boh non lo so Eh no Aspetta Mi sa che ho sbagliato strada Ah ho capito dove devo andare Dei qua Sì ma il primo fiore ridente Dove sta Scusa Allora qua c'è questo Che cacchio è Che cacchio What the heck is this No aspetta Seriamente ma Qua c'è questo Ma come faccio a prenderlo Cioè vabbè Non ho nessuna uova Ma guardate che roba Volano A caso Adesso qua Mi servono molte uova Voi tornare addirittura Indietro Eh vedi che qua c'è qualcosa Guarda che ti ho visto eh Ti ho visto shy guy Dai sbuca Perfetto preso Ora torniamo indietro Perché di qua Come sapete Ce l'ha questa roba Ecco qua Il primo fiore ridente Esatto Occhio non cadere Ragazzi Siete molto attenti Aspetta Andate a prendere Quella monetina Queste ultime Bam Colpito Ehm Qua cosa c'è ragazzi Non ne ho idea Ecco beccati questo Questi corsi Sono un po' troppo Sospetti Eh vedi Ci posso andare Anche attraverso Diciamo Che qua Che cavolo È sta roba Va bene Aspetta Qua c'è questo Che altri cuori Va perfetto Attenzione Attenzione Aspetta Muori Grazie Oh Qua c'è qualcosa Di sospetto Vedete che c'è Eh vedi Vedi raga No aspetta Ah va bene Ok ce l'ho fatta Benissimo Siamo a due Molto bene Io continuo sempre A cercare Se c'è qualcosa Di Nascosto Da qualche parte Ma sicuramente Questo livello Come gli altri Non lo finirò mai Nel primo tentativo Beh ogni volta È sempre la stessa cosa Che qua Prendiamo un po' Di questi Ok Aspetta Forse ho capito Eh Vai Vai forza Non sembra difficile Preso Molto bene Completato Ragazzi Aia No aspetta Qua c'è Ma se vabbè 3 su 20 Ma guarda te Che schifo Aia Che odio Ma Ok altre uova Molto bello Questo livello È molto calmo E poi vabbè Yoshi's Woolly World È un gioco calmo Calmo un po' troppo Direi Aspetta Vedi che qua c'è qualcosa Ok Via un po' Se ce la facciamo Qua Mancavano queste monete Perfetto Perfetto davvero Cacchio Sono caduto Aiaia Non mi piace No dai Qua no Per favore Eh vabbè Ok Qua ci sono solamente Due piattaforme Attenzione ragazzi Fate veramente Attenzione Allora qui Mori te Grazie Ok Perfetto Adesso qua Novoletta Grazie mille Per i cuori Andiamo qui dentro Che sicuramente qua C'è qualcosa Vero Esatto qua c'è una stradina Qui niente Veramente non c'è niente qua Non è possibile Ci sarà sicuramente qualcosa No Evi infatti Vedi Eccolo qua Il bellissimo Fiore Ridente Ridente Madonna Mi viene una voglia enorme Di giocare A Yoshi's Woolly World Vado Oscar Che è quello andato Altre monete Va bene Va bene Ok Qua sopra Non si può andare Non ne ho idea Mi sa che dura tanto Questo livello Sapete Eh mi sa di sì Ok Vai Altre Soldini belli Attenzione Lì sopra c'è qualcosa Di sì Qua sopra C'è qualcosa Di sicuro Aia 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 Che dolore Che dolore Questi odiosi Sì Ciao No Sono morto Ok Allora qua Riprendiamo il nuovo Le monete Ora Aspettiamo un attimo Perché non voglio fare le cose Troppo in fretta Aspetta Qua mi stanno per forza Di tipi timidi Eh vabbè Te ti mangio Anche te ti mangio Ecco Vedi che là c'è qualcosa Vedi che c'è Corri Yoshi Corri Preso E questo è il quinto Molto molto bene Dovete per forza Controllare molte volte I vari Le varie cose Io Ok L'ho preso Boom Finito Yes Tutti Ce li ho tutti Manca Nazione No Oddio Meno male che c'era lui Meno male che c'erano questi Ok 8 su 20 Le altre monete rosse Non so neanche dove cacchiano Non so dove sono le altre monete rosse Maledizione Aspetta Eh muori Sicuramente C'è qualcosa E vedi che ci sono alcuni tipi timidi qua che rompono le scatole Ah grazie Molto gentile Allora Ecco vedi Altre monete Benissimo Mi sa che adesso è finito Però stare attento Mamma mia Allora Va bene dai Devo rifare il livello Devo trovare le ultime monete rosse E anche La roba dei cuori Però almeno la maggior parte Però almeno i ferividenti li ho trovati tutti Questo è un bene Ok anche quello che ho preso 12 su 20 Ok 12 su 20 Perfetto rega Molto bene Copiamo lui Ok 14 su 20 Allora Io Non ho parole C'è Qui C'è veramente come ho fatto C'è Mamma mia Spingiamo questo Non c'è niente Ah ecco Guarda tutte le monete No ne manca uno Ne manca soltanto una Manca solamente una moneta rossa Dov'è No maledizione Mi manca solamente una moneta rossa Del cavolo No dai Non è possibile Tu vecchi adesso Quella maledetta Io adesso la devo trovare Assolutamente Allora Ora sto Ok Adesso sono di nuovo qua Nel livello Di Willy World E al momento Sì ho le 20 vite Devo solamente sopravvivere Per favore Fatemi sopravvivere Please Ok dai Ce l'ho fatta Va bene dai Ho preso un altro fiore ridente Però Non ho Non ho capito bene Dove si trova L'ultima moneta rossa Vabbè Se mai la prova A prendere off camera Perché in realtà L'importante è prendere I fiori principali Diciamo Bene Adesso passiamo Al prossimo livello Dai Perché fare sempre lo stesso È una noia Andiamo avanti Pucci è il regno Degli snack Va bene Vediamo un po' Di che si tratta Perché sinceramente Non ne ho idea Oh Bene Voi cosa Fate Ah Favoloso Ahia Fanno male però Ah Bella questa È appunto Un mondo fatto di dolci Oh No I tipi timidi Quelli crassi Ci si Ma mamma mia I ricordi Regà I ricordi Favoloso Regà Favoloso Aia Cos'è sta roba Oh Occhio regà Fa male Aia Aia Regà Ah vedi Ok posso mangiarlo Magati questo Ehm E adesso Qui che faccio Ah Ok Perfetto Allora aspetta Ok ti ho visto Ti ho visto Tipo timido Ti ho visto Dammi la moneta rossa Va bene Vai ancora con i money Ok qua Non posso farci niente Ok ho visto che qua C'è qualcosa Di qua Giusto Ok infatti C'era qualcosa Cosa sono qua Oddio Sono dei marshmallow Questi Attenzione perché C'ho solamente Una vita Occhio regà Aiuto Aiuto Mamma mia regà Mamma mia regà Mamma mia Ah Sono morto Va bene Però Ok vai Veloce Veloce Manda questo Grazie mille Allora lì ci sono Dei tizi brutti Ok Non posso mangiarli Ma questi Sì invece Aiuto 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 regà Un attimo Solo che voglio Eliminare Il tipo grosso Molto bene Mamma mia Mi viene l'acquolina in bocca Voglio tanto di dolci Regà Ok Lì c'è il freridente Fioreridente Ok Dovete avere per forza Una marea di Uova Qua Facciamo così Allora adesso Spacchiamo Ah Bellissimo Pucci Ciao Bello Ok Io sono pronto Adesso nemmo con il caro Pucci Che è uscito da questo Muffin Cupcake Di Toy Chica Smash E andiamo Gente Su Pucci Spacchiamo tutto Allora qua Come si fa Pucci Ah Pucci è immortale Vero Ok Grazie mille Adesso Riporta dietro Di qua Bravo Pucci Ok Bravissimo Dammelo Ora Possiamo andare avanti Pucci Sì Grazie Sì Aspetta C'è una roba Che devo prendere qua No Pucci Indietro Di qua Pucci Ok Di questi Sono molto utili Attenzione A non cadere Fate molta Attenzione Ok Perfetto Pucci Che fai Pucci Ma che fai Ma dove va Pucci Mi ha abbandonato No Che brutta roba Ok Vedi che qua c'è questo Va bene Ne sono Moleta rossa Ok Spetta Un attimo Vai Prossimo Preso Siamo al terzo Eh Non ho Eh ma io non ho niente Aiuto Non c'ho niente Beh Beh certo Arrivano questi Da qua Quindi Sì dai Aspettiamo Dai un altro uovo Ah Beh adesso Veloci come il vento Là c'è il pacco regalo Colpiamo Colpiamo il pacco regalo Please 10 su 20 Perfetto Veramente un livello Zuccherato Direi Vero Oh no Questo livello no Allora Quello Ok T'ho visto Preso Molto bene Ragazzi Molto Molto bene Occhio qui Occhio regà Devo per forza Usare le uova Qui sapete Non c'è Nessun modo Ok Sono questi Cattivi Infatti Non ci posso fare Ah no Un attimo solo Se incontro Un tipo timido Lo prendo Adesso Torniamo indietro Perché qua Ci sei te Ok un attimo solo Cosa Vedi Sì sì Ok Altri cuoricini Perfetto Aspe E qua invece Guardate che roba Wow Bellissimo Proprio Ho preso proprio Il numero Fortunato Direi È dura Questo livello Un checkpoint Qui abbiamo Vado Sky Ok Questo è il Molto bene No Maledizione a te Brutto Tipo Grosso Come cacchio ti chiami Non lo so Perfetto Allora Adesso Ok Qua c'è ancora Pucci Molto bene Ok Vita massima Andiamo Pucci Ok Fiore Preso Meno male Ce l'ho fatta Manca solamente Uno Occhio Vabbè bravo Pucci Che almeno Te sei immortale Ecco Guarda Altre monete Rosse 16 Vieni qua Pucci 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 Dove sei? Wow Grazie mille Pucci Grazie mille Eh ma io ho notato Che c'è qualcosa Qui eh Che cavolo Raga Qua cosa abbiamo In realtà Sembra che Mi ha preso tutto È la madò Ok Mamma mia L'ho fatta Ok Molto bene Sì Va bene così Raga Nel prossimo episodio Proverò a prendere Altre Le ultime monete Rosse Di questo livello Molto Molto golosone Molto bello Davvero Proprio Ho tanta voglia Di mangiare Un kinder bueno Qualcosa Di buono Zuccherato Allora Qui Questo qua Yoshi Tira Le fila Va bene Ma un attimo Solo raga Ora voglio Sbloccare Un nuovo mondo Che è Da questa parte Di qua Ecco E qua Ragazzi C'è questo Ehi Puff Sono Proprio Esausto Se solo Avessi Dieci Fiori Ridenti Tieni Tanto E' già Tantissimi Di fiori E chissà Quanti sono Mamma mia Cos'è Questo livello Grazie Mi sento Già Molto Meglio Va bene Vediamo Un po' Di che si Tratta Ecco L'aria Picchi Altezzosi Ok Questa è L'aria Sismica Calda Bollente Pronta Scoppiare E quel picco In lontananza E la cima Del vulcano Locale Allora Gente Questo è tutto Per questo video Di Yoshi's Crafted World Nel prossimo episodio Forse iniziamo Questo nuovo mondo E In più Devo anche Forse Non lo so Ma penso Di cercare Off camera Delle monete rosse Che ho mancato E poi Dobbiamo andare avanti Ah si Dobbiamo andare avanti Anche con questo mondo qua Può trovare pure i pucci cucili Sì Mamma mia Che roba Ok Quindi Ciao Yoshi